L'impegno profuso da ACI verso la promozione dell'educazione stradale e dei corretti comportamenti da tenere sulla strada inizia già dagli anni 30. L'evoluzione della tecnologia ha interessato in questi decenni la sede stradale sia dal punto di vista ingegneristico sia da quello della segnaletica, ma un'evoluzione forse anche maggiore ha coinvolto i veicoli, le cui case costruttrici hanno adottato moderni sistemi per diminuire sensibilmente il rischio di incidentalità. La componente umana resta purtroppo la variabile più fragile. L'ACI, cosciente di ciò, dedica la sua attenzione alla prevenzione con iniziative formative rivolte da adulti e bambini, collabora alla redazione e realizzazione di piani urbani del traffico e promuove nuovi applicativi software per la gestione della circolazione stradale. L'adesione di ACI a programmi di prevenzione internazionali è un'ulteriore testimonianza della sensibilità che l'ente ha nei riguardi di una tematica così delicata.